ciao sono carlo oggi ti spiego come suonare questo riff è un riff in slap ed è contenuto nel mio metodo ebook easy slap oppure disponibile anche in versione cartacea qui a foto potete trovarlo su amazon sui vari digital store oppure andate sul mio sito www.carlochirio.com c'è una sezione dedicata a disease slap in cui potete ascoltare tutti gli audio di tutti gli esercizi ci saranno anche altri video dimostrativi partiamo subito col riff mi a vuoto con la sua ottava stessa cosa sul sol poi do mi un colpo col pollice e un colpo strappato tomb mi sol do arrivati al do si farebbe un sì però viene fatto invertendo il tomb con il plaque con un levare di sedicesimo vi consiglio anche di suonarlo come esercizio anche tutto in ottavi scendendo dal do al si in maniera tradizionale in modo da acquisire la tecnica poi una volta acquisita e meccanizzata invertite e facciamo questa implementazione la seconda battuta viene fatta simile per i primi tre quarti quarto quarto anziché scendere salvi sul re in maniera tradizionale con un bel e slèp 1 2 3 4 ve lo suono una volta lento benissimo grazie mille vi auguro un buon divertimento spero di esserti stato utile condividi video metti un mi piace un commento aiutami a fare crescere il canale alla prossima ciao buona musica